Ciao a tutti e benvenuti su Ideale Casa. Siamo a San Lazzaro di Salena in questa cameretta che la cliente ha richiesto di personalizzare per i suoi due bimbi. Monteremo un armadio ponte di ottima qualità realizzato in legno, due letti personalizzati con una laccatura RAL e contestualmente integreremo alcuni elementi d'arredo già preesistenti. Questo armadio ponte Vestalia è totalmente realizzato in tamburato legno di apete, spessore 33 mm. La struttura è stata montata ed abbiamo attrezzato anche l'interno. La cliente ha richiesto nella prima colonna cassetti, tubo per di abito ripiani, nella parte ponte sia tubo che ripiani, nell'ultima colonna una serie di ripiani. La finitura esterna è in rovere naturale impialacciato, impialacciato legno non laminato, ed interno invece è in noce tanganica. I letti sono stati personalizzati sia in misure che in colore. Per la misura abbiamo un 95 e un 128. La cliente aveva già costato i materassi con queste dimensioni. Il colore invece è un RAL opaco telegrigio 70-47 con cui abbiamo laccato sia la testiera sia il giro retto. Per tutte le nostre camerette su misura in legno o vestalia, visitate il nostro sito www.idearecasa.com e vestalia.furniture ed i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!